eccoci nuovamente qui con una nuova movie reviews innanzitutto voglio ringraziare tutti gli amici che mi seguono su instagram perché hanno votato per questa movie reviews per questo titolo nei sondaggi delle mie storie su instagram quindi oggi animali notturni il film di oggi un thriller metaforico new thriller new noir di quel filone molto interessante che ci piace dunque il regista è tom ford il film è del 2016 prima di incominciare con l'analisi frame by frame come sempre volevo spendere due parole su tom ford lui nasce come stilista nel mondo della moda lavora con dei marchi molto blasonati come di spicco come gucci o altre case come yves saint laurent addirittura riesce ad aprire un marchio tutto suo quindi diventa poi lui stesso proprietario del marchio insieme con dei soci con una linea di profumi e addirittura una linea di occhiali curiosità gli stessi occhiali che utilizza la protagonista susan quando legge il manoscritto che le verrà inviato dal suo ex marito dunque andiamo a vedere questo film nel dettaglio facciamo la nostra analisi come sempre e poi ne traiamo le conclusioni anche perché ho voluto fare questa apertura perché tom ford essendo nato nel campo della moda e quindi comunque la conosce molto bene conosce bene quella tutta quell'ambientazione ce la racconta in questo film ce la racconta molto bene perché ci racconta quel lato pieno di sfarzo e pieno di stile pieno di vita mondana che però nasconde dei lati di tristezza la freddezza appunto che gira intorno alla protagonista la si può percepire benissimo vi lascio al frame by frame noi ci vediamo dopo per le considerazioni finali la protagonista susan interpretata da emmy adams è un'artista famosa che espone le sue opere di arte moderna in gallerie blasonate vive in una lussosa villa con il personale di servizio al seguito e riveste un ruolo imponente nel suo lavoro la classica donna in carriera dunque affermata e fredda riceve inaspettatamente dal suo ex marito eduard interpretato da jake gillenhall un manoscritto dedicato proprio a lei dal titolo animali notturni il titolo del romanzo non è affatto casuale infatti proprio il suo ex marito usava chiamarla così per i suoi problemi di insonnia il suo attuale marito è fuori apparentemente per un viaggio di lavoro anche se la tradisce con altre donne e lei ne è consapevole di questo ma non fa nulla per impedirglielo acconsente tacitamente così rimasta sola in casa comincia a sfogliare quelle pagine il romanzo è molto violento e susan rimane affascinata da quelle parole e si lascia trasportare da esse proseguendo avidamente nella lettura la storia narrata parla di tony che è interpretato sempre da jake gillenhall che in una notte scura viaggia in auto con la sua famiglia verso il texas occidentale la moglie e la figlia assomigliano molto a susan ea sua figlia in effetti l'auto viene speronata e bloccata da tre belloschi individui con a capo un certo rei e dopo aver schernito tony con appellativi che denigrano il suo essere uomo come faceva susan quando stava insieme ad edward i tre fuggono in auto con le due donne lasciando tony solo in mezzo alla strada deserta in piena notte tony riesce ad arrivare presso un'abitazione dove chiama la polizia a seguire il caso sarà il detective bobby andes interpretato da un michael shannon in piena forma artistica un vero duro texano con il cappello da cowboy e la sigaretta sempre in bocca purtroppo le ricerche portano al ritrovamento dei cadaveri delle due donne nei pressi di un capanno i corpi sono adagiati su un divano rosso questa scena è molto suggestiva perché in quel momento della lettura susan fa una telefonata a sua figlia nella realtà e l'inquadratura ci mostra il corpo della ragazza nella stessa identica posizione della giovane del romanzo un anno dopo il delitto tony viene contattato nuovamente dal detective bobby andes che è riuscito ad acciuffare uno dei tre criminali l'altro è morto in una rapina rimane solo da scovare il capo branco ray il detective rivela di essere ammalato di cancro e che gli rimane poco da vivere e fa una proposta a tony quella di farsi giustizia privata per chiudere i conti al più presto visto che lui ormai non ha più nulla da perdere e visto che la legge comunque non gli andava incontro così riescono a portare a casa di andes i due criminali ray e lu per seviziarli e ucciderli ma ray fugge mentre lui viene freddato dal detective a colpi di pistola al vedere lu senza vita tony elabora il suo cambiamento totale e da bravo uomo qual era esulta e scarica tutta la rabbia urlando ora non rimane che prendere ray il detective e tony si dividono per l'inseguimento e tony alla meglio raggiungerei nel capanno dove erano avvenuti gli omicidi l'anno prima tony ha una pistola mentre ray cerca di mediare ma nasconde un oggetto contundente dietro le spalle quando si avvicina ray gli sferra un colpo in faccia mentre tony spara e sviene quando si riprende ancora c'è secato e sanguinante in volto realizza che ray giace a terra senza vita giustizia è fatta dunque esce fuori e cammina claudicante cadendo ma accidentalmente parte un colpo dalla sua pistola che lo uccide e il romanzo termina così susan rimane sconvolta e affascinata dal manoscritto che ha appena letto e cerca di contattare eduard il suo ex marito che non sento ormai da tempo da circa 20 anni inviandogli una mail per cercare un incontro nel frattempo ripensa la sua vita con l'ex marito e a tutto il male che gli ha recato perché anche se all'inizio era infatuata di lui poi con il passare del tempo i loro caratteri diversi li hanno portati al contrasto lui sempre un sognatore e desideroso di diventare un grande scrittore lei cinica e realista proveniente da una famiglia abbiente con la madre che le consigliò di lasciar perdere eduard perché non faceva per lei ma lei lo sposò lo stesso forse egoisticamente anche se poi divenne pian piano come sua madre arrecò al suo ex marito dei torti deplorevoli come il tradimento con un avvenente uomo e addirittura all'aborto del figlio di eduard che portava in greppo il finale del film ci lascia indubbiamente spiazzati eduard risponde alla sua mail e accetta l'appuntamento in quel lussuoso ristorante ma l'attesa di susan è vana eduard non si presenterà mai dunque un film molto ben girato e molto interessante nella trama e nell'interpretazione dei protagonisti sia emmy adams susan sia jake gillenhall che fa due parti la parte dell'ex marito eduard che ha scritto il romanzo e la parte di toni che è il protagonista del romanzo quindi il filone narrativo principale è quello della vita reale di susan in quella sua ambientazione fredda glaciale del suo mondo della moda dell'alta moda lei è una affermata gallerista infatti all'inizio ci fa vedere delle opere d'arte umane addirittura con queste donne che ballano in sovrappeso che poi vengono stese su dei tavolini e sono appunto loro stesse l'opera d'arte che la gallerista va a mostrare al pubblico il secondo filone narrativo è quello del romanzo che ha scritto eduard il suo ex marito dove c'è questo toni che è il punto il volto di eduard c'è questa famigliola che assomiglia molto alla sua ex famiglia quindi a susan con i capelli rossi e a sua figlia poi durante questo viaggio nel texas occidentale in una nottata buia tenebrosa viene affiancato da una macchina sospetta che viene speronato buttato fuori strada da lì questi tre malviventi lo scherniscono gli dicono diverse parole che denigrano appunto il suo essere uomo come dicevo prima gli danno degli appellativi come femminuccia eccetera queste erano le maldicenze appunto che ha dovuto subire durante la sua vita con susan nella sua vita precedente eduard infatti perché prima ho detto thriller metaforico perché appunto questo romanzo riprende in metafora tutti questi significati almeno io la interpreto ovviamente in questo modo i tre malviventi sono le maldicenze che ha dovuto subire durante la vita precedente con la sua ex moglie la creazione appunto della famigliola che vuole assomigliare a quella della sua ex famiglia quindi quella di susan il detective alves che lo aiuta anche in maniera rasentando la legge prendendo appunto vie che non sono del tutto legali potrebbe essere il suo orgoglio il suo la sua voglia di rivalza il romanzo si chiude con la sua appunto rivincita nei confronti del male quindi con l'uccisione dell'ultimo dei criminali ritornando invece alla vita reale di susan quindi al terzo filone narrativo lei leggendo questo romanzo si ricorda quando incontrò da giovane il suo ex marito eduard e tra le sue reminiscenze c'è anche il fatto che la mamma era contraria a questo matrimonio infatti le diceva sempre lascialo perché non è l'uomo che fa per te ma lei egoisticamente ha voluto sposarlo però poi con l'andare del tempo i due caratteri diversi lei cinica e realista lui sognatore e infatti voleva fare a tutti i costi lo scrittore quindi l'ha lasciato per un altro e gli ha recato anche dei danni oltre che morali anche il fatto che comunque ha abortito un suo figlio che portava in grembo quindi gli ha fatto delle cose allucinanti il film si chiude con un finale che secondo me non poteva essere girato meglio perché ci lascia a bocca aperta e titubanti per un attimo perché eduard non si presenterà mai a quell'appuntamento perché non si presenta a quell'appuntamento tom ford ce lo fa vedere durante il film passa una scena dove c'è un quadro enorme nel palazzo in cui lavora susan in quel palazzo freddo dove c'è il suo ufficio lei passa davanti e trova questa scritta a caratteri cubitali revenge che significa appunto vendetta lei non si ricorda neanche di aver comprato questo quadro e la sua assistente invece le conferma che è stato acquistato anni prima all'unasta è il tema finale che spiega tutto la vendetta di eduard che dopo 19 anni ovviamente la vendetta si è un piatto che va a servito freddo è lui appunto a questa rivincita nei confronti della sua ex moglie dopo tanti anni e non va a quell'appuntamento e fa una vendetta appunto con stile e le fa capire appunto con stile che ha veramente perso qualcosa di importante un uomo sincero un uomo anche se sognatore ma comunque uno scrittore appunto è riuscito a scrivere il suo libro ha realizzato i suoi sogni mentre lei è rimasta nella sua tristezza e sta con un uomo che la tradisce e lei neanche si ribella più ormai perché talmente assorbita da quella quotidianità così scialba che la vita proseguirà in quel modo quindi un applauso a tom ford che dopo soli due film colleziona già successi perché il suo primo film è stato a single man del 2009 questo qui invece del 2016 una bella musica bella colonna sonora voglio citare appunto il musicista che è nello specifico il polacco abel korzeniovski che ha collaborato con lui anche per l'altro film a single man quindi se vi è piaciuta questa video recensione vi invito a iscrivervi al canale e a lasciare qualche commento qui sotto e a seguirmi su instagram intanto il canale va avanti il canale youtube sia con le movie reviews sia con il laboratorio vocale facciamo una uscita settimana quindi state in campana che siamo sempre attivi e andiamo avanti ovviamente sempre con il vostro supporto un saluto alla prossima ciao